Dopo anni di attesa, il Senato ha approvato un emendamento per includere la posidonia spiaggiata tra il materiale naturale, rendendola dunque non più conferibile in discarica come rifiuto speciale. L'emendamento approvato in Senato, che disciplina la gestione della posidonia spiaggiata, sostenuto dal sottosegretario alla transizione ecologica a Bagna a Gava, è un ottimo risultato per il comparto del turismo costiero, commenta Marco Maurelli, presidente di Federbalneali Italia. Grazie a questo emendamento, infatti, la posidonia spiaggiata viene inclusa tra il materiale naturale non più conferibile in discarica come rifiuto speciale. Gli accumuli di posidonia spiaggiata, seppur vissuti spesso come un disagio dai frutturi delle spiagge, hanno infatti una funzione indispensabile nell'ecologia dell'ambiente ritorale, contrastando l'erosione e preservando l'equilibrio dell'ecosistema delle coste. La posidonia è un elemento importantissimo del ciclo di vita delle spiagge, conclude Maurelli. Contiamo che l'emendamento venga ratificato anche alla Camera, in modo che questo fondamentale vegetale marino sia valorizzato come risorsa sia per l'ecosistema del nostro litorale che per molti altri scopi, come per esempio l'agricoltura e l'economia circolare. Ora occorre guardare alla rivisitazione e alla semplificazione della norma quadro del 2006 e del DM 173-2016, in chiave di transazione ecologica, sui quali non faremo mancare il nostro sostegno. Una buona notizia dunque anche per la città di Agropoli, che da oltre dieci anni è alla ricerca di una soluzione al problema, ma anche per i comuni costieri che riscontrano l'accumulo sui litorali di questa pianta. Nel mese di aprile la problematica della posidonia spiaggiata sulle spiagge della città di Agropoli era stata posta all'attenzione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, attraverso un progetto che ne prevede la rimozione. Sono circa 3 milioni di euro la somma che l'ente agropolesi ha chiesto alla regione per smaltire la posidonia. Ora si attende una risposta per capire come procedere e se per l'imminente stagione balneare la spiaggetta storica della Marina e la spiaggia del Lido Azzurro ritorneranno accessibili completamente.